Sindaco, si parla di ACS, arriva alla nomina del regente la scelta di Paolo Spagnolo come matura? Serviva una persona che avesse esperienza amministrativa per provvedere alla redazione del nuovo contratto di servizi, alle modifiche, aggiornamento dello statuto e per giungere anche all'approvazione del bilancio che non è stato approvato con il commissario, con l'amministratore greco, ma nelle more chiaramente ci sarà la pubblicazione del bando per l'individuazione dell'amministratore unico futuro di ACS. L'opposizione contesta dal punto di vista procedurale e politico questa nomina, lei come risponde? Che rispettiamo chiaramente le opinioni di tutti, ma io sono stato votato per governare per cinque anni la città, stiamo attuando scelte che daranno sicuramente prospettiva di sviluppo a questa città e stiamo anche attuando una rivoluzione epocale dal punto di vista dell'organizzazione e dell'erogazione dei servizi, quindi certamente andiamo avanti per la nostra strada. La prima cosa che chiederà al reggente dal punto di vista della svolta che lei si attende da ACS? C'è bisogno di riorganizzare i servizi che eroga ACS, come spesso ho ricordato negli ultimi giorni, non possiamo immaginare che l'ACS ci costi circa 2 milioni di euro, addirittura un costo superiore a quelli che sono gli incassi dei nostri parcheggi, c'è bisogno di rivedere questi servizi salvaguardando chiaramente i posti occupazionali e la permanenza in vita della stessa ACS.